Tutta dedicata al ricordo del compianto Benigno Blasi, la prima parte del corso di formazione per giornalisti che si è tenuto al circolo della stampa di Avellino. Un ricordo commosso del collega, amato e stimato da tutti e scomparso recentemente dopo una breve quanto grave patologia, è stato consegnato dai relatori docenti del corso di formazione, a cominciare dal presidente dell'ordine della Campania, Ottavio Lucarelli, e poi Gianni Colucci e Carlo Verna del Tg3 Campania. Ma di Benigno Blasi hanno parlato anche colleghi che con lui hanno vissuto buona parte del percorso professionale giornalistico. Raccontare la criminalità tra deontologia e informazione è il titolo dello stage e non a caso tra i relatori anche il magistrato Francesco Soviero della direzione distrittuale antimacia di Napoli, che ha invitato a non abbassare la guardia sulla presenza della criminalità organizzata in provincia di Avellino. Ci sono stati anche degli omicidi importanti, il fisco 2013, anche 2015, in Avellino e soprattutto in provincia di Avellino. Bisogna anche tenere presente che quando si spara di me non è vero che la camorra o la criminalità sia a riposo, anzi i taffici dilagano sempre di più, sia il classico di rata dell'estorsione e dell'usura, ma anche i taffici stupacenti, il controllo dell'economia legale, la possibilità di infiltrazione della pubblica amministrazione. Quando non si spara, anzi, questo è un dato di fatto acquisito che la camorra è viva e opera con maggiore forza. La camorra non è certamente a riposo, gli episodi legati all'eolico in Alterpigna sono un segnale allarmante che non va sottovalutato. Non posso entrare nei dettagli delle indagini, ma questo è significativo perché dove c'è sviluppo, dove ci sono iniziative anche economiche, c'è la presenza della criminalità. Grazie.